Non c'è un problema di gestione di strutture, c'è un problema di struttura, di agibilità che dobbiamo e stiamo cercando di affrontare. Per quanto riguarda la gestione degli impianti sportivi, gestione di palestre, c'è un regolamento che sarà dal 2010-2011. Per quanto riguarda i campi sportivi è un regolamento atalico, vecchio, che dovremmo rinnovare. Soprattutto le strutture dove si svolgono campionati federali, quindi campi di calcio, palestra comunale, tentostruttura campo coni. Questi sono gli impianti che servono a noi come città per lo sforzamento di campionati federali e alla città, alle società sportive per praticare queste attività sportive. Le strutture che dovrebbero interessare sono 5-6. Guardi, noi abbiamo le strutture sportive del Comune di Avellino, quali per esempio la palestra comunale che non è di vecchia costruzione, è di recente costruzione, come pure la tendostruttura. Mancano solo degli atti amministrativi.